Il rischio peggiore è che perdesse completamente la vista un pericolo scampato per Gintonic, la poni di tre anni proveniente da un sequestro avvenuto nel 2018 a Roma. Sottratta al centro equestre di Lunghezza, definito un lager dopo anni di denunce, alcuni degli esembrari che lo abitavano oggi sono ancora in custodia giudiziaria in un terreno del comune Capitolino. Non Gintonic però, arrivata al centro di recupero dell'Italia North Protection nel Pisano dall'ospedale veterinario di Perugia nell'agosto scorso. Da lì in poi per lei si è aperto un futuro diverso, le cure l'hanno salvata dalla cecità e inoltre l'IHP ha accolto la richiesta di continuare ad occuparsi della cavallina che durante questi mesi, potendo vivere libera al pascolo, ha stretto amicizia anche con Grifo. Il poledro cieco dalla nascita, proveniente sempre dal centro in provincia di Roma, insieme alla mamma azzurra, che oggi ha tre anni come lei.